Ambiente, nasi elettronici, l'inquinamento è una cosa seria. Il Presidente dell'Organizzazione Siciliana Ambientale, Fabio Laferla, interviene dopo la decisione dell'assessore regionale al territorio ambiente di accogliere la richiesta presentata dal Sindaco di Piolo sull'acquisto di nasi elettronici per verificare la qualità dell'aria. Secondo Laferla, esperto di sicurezza negli stabilimenti industriali, questi campionatori andrebbero a misurare la quantità di sostanze ma il loro funzionamento è tutto da scoprire. Hanno provato alla regione Sicilia più di 350.000 euro così potremmo essere sicuri se c'è puzza nell'aria e soprattutto tramite un applicatore web potremmo segnalare da dove arrivano gli odori molesti o l'eventuale sostanza tossica. Mi chiedo, ma la raffineria non è piena di analizzatori di gas? A mio avviso sono solo dei palliativi, c'è bisogno di competenza, l'inquinamento è una cosa seria.